... No, no, è vero che non c'è la rivoluzione musicale. Si posso regalare? Sì. Non mi aveva fatto l'enzione. Sì, è vero. A parte quella lì, prima di me quella cosa, sono i peggi, perché devo fare tutto perfetto. Io sto andando. Non ci sta a discorrere tutto strano. Sali ci piangono. Però Roberto... Alla partenza, personale numero 16, Goria, interviste popolare 58, 8, 10. Sì. 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 Sì.